La mostra dedicata a Helmut Newton si apre con una gigantografia del ritratto in bianco e nero del fotografo scattato dalla moglie June. L'originale si trova all'interno della sezione Early Years. Oltre a Ritratto Newton, nella sezione sono disponibili le audiodescrizioni di June Comeda Gabler e della serie di scatti At the French-Belgian Border. Nato a Berlino nel 1920 da una benestante famiglia ebrea, Helmut Neusteder si interessò presto alla fotografia. A 12 anni fotografò la Funkturm, torre della radio di Berlino, un motivo che riprenderà anche in seguito. Quattro anni dopo cominciò a lavorare dalla famosa fotografa di moda Eva, nel cui studio scattò i suoi primi autoritratti. Nel 1938 fu costretto a lasciare la città a causa delle persecuzioni in Germania. Arrivò in treno a Trieste e da qui si imbarcò per Singapore, dove lavorò per un breve periodo come fotoreporter per lo Straits Times. Nel 1940 partì per l'Australia, dove aprì un piccolo studio fotografico a Melbourne e conobbe la sua futura moglie, l'attrice June Brunel, che divenne sua assistente di camera oscura. La maggior parte dei ritratti e delle fotografie di moda e di matrimoni di quegli anni sono andate perdute. Il lavoro del fotografo, che aveva anglicizzato il suo nome in Helmut Newton, si iscriveva per lo più in una tipologia convenzionale, ma già si percepivano occasionali accenni a ciò che sarebbe accaduto in seguito. Nel 1956 tutto cambiò. Newton si recò in Europa con la moglie June e ottenne un contratto di un anno con British Vogue a Londra. Il mondo della moda e i Parigi lo catturarono, dando inizio a uno dei periodi formativi più importanti della sua carriera. Di questo capitolo della sua carriera fanno parte ritratti e fotografie di moda scattate nelle strade di Londra e di Rio. Una specie di fotoromanzo sul confine franco-belga e un editoriale sulla moda maschile incorporato in una storia di James Bond.